Ben ritrovati amici del centro meteo italiano. Diffusa instabilità nei prossimi giorni sulla nostra penisola. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per mercoledì 23 ottobre. Cieli nuvolosi con precipitazioni sparse al mattino al nord sulla Toscana e sulla Sardegna, anche intense sull'Emilia-Romagna. Al pomeriggio tempo instabile su gran parte della penisola con piogge e acquazioni sparsi, più intensi al nord-est. In serata è notata ancora fenomeni sulle regioni del centro nord, più asciutto al sud ma con molte nuvole in transito. Temperature minime senza variazioni di rilievo e massime in calo specie al centro nord. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del centro meteo italiano.